Da quasi 24 ore è un flusso continuo, ci sono i grandi, ci sono i piccoli delle scuole, c'è una città che sta venendo a salutare, a dare una carezza, a lasciare un messaggio. Come lo si vive un affetto di questo tipo? È una cosa meravigliosa, noi abbiamo deciso di chiedere al Comune che subito, devo dire, c'è venuto incontro la possibilità della Camera Ardente Pubblica, proprio perché sapevamo che la cittadinanza amava papà, tanto quanto lui l'amava, tanto quanto lui amava la sua città e i suoi concittadini. Ieri ero un po' triste, l'ho già appena dichiarato, una signora mi si è avvicinata e mi ha detto siamo venuti a salutare il nostro mito, signora non assire triste, non deve essere triste, i miti non muoiono mai. Io mi auguro che in qualche maniera il ricordo di papà, del suo mare, del nostro meraviglioso mare siracusano, rimanga nel tempo. In effetti questa definizione del mito ritorna, ritorna sui giornali, ritorna tra le parole che abbiamo letto e sono state lasciate, tra il libro dei ricordi e dei messaggi, c'è troppa retorica, avrebbe dato fastidio a papà? La retorica a papà dava fastidio perché era una persona che amava la semplicità, perché il mare lo aveva abituato alla frugalità e alla semplicità, con le sue onde lo aveva ripulito di tutti gli orpelli inutili. Però il mito non è retorica alla fine, il mito è la favola, la favola che rimane oralmente, si tramanda di generazione in generazione, è un legame con le nostre radici profonde e antiche che dal mare provengono poi. C'è un interrogativo che è nato spontaneo adesso però in città, come si custodisce, come si conserva, come si tramanda il mito di Enzo Maiorca, da dove si potrebbe cominciare? In questo momento io onestamente non le saprei rispondere, certamente intanto ognuno facendo il proprio, cosa intendo con ciò? La maniera migliore per ricordare papà è nel rispetto del mare che lui ha tanto amato. Poi potrei pensare a un istituto di studi sul mare, ma sempre qualcosa di, come dire, estremamente semplice con il minimo delle spese possibili e immaginabili, così come avrebbe voluto lui.